Non mi fidavo di nessuno. Tu andavi molto spesso a casa della famiglia Macaluso? Sì, perché c'era Rian. E non ti fidavi nemmeno di Macaluso? No. Per quale motivo, Tiziana? Io prima gli volevo bene a Rocco, ma poi un giorno Rian mi ha detto che suo padre... Ti riferisce a Rocco Macaluso? Sì, lui è come mio padre, come mio fratello. Un mostro. Ma che dice? Che cosa ti ha confessato? Non è vero o niente. Ma allora se deve dire questo, perché non viene qua? Lo viene qua a dire davanti a me? Sono bugie, non è vero o niente. L'avvocato faccia qualcosa. Stiamo parlando di mia figlia. Stia tranquillo. Sono tutte bugie. Mi scusi, presidente, mi scusi. Per contesia, stia seguendo. Grazie. 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 Grazie.